Ehi, era da un po' che non vedevo un essere umano da questa parte, come ti chiami? Ma che bel nome! Complimenti! Io sono Kalengol, sono un elfo, e il mio nome nelfico significa fogliame verde, e infatti sono un elfo delle foreste, vivo qua, in questa foresta, ma tu cosa ci fai qua? Hai perso la strada? Cavolo, mi dispiace, ma se vuoi ti posso aiutare a ritrovarla? Ok? Beh, allora se sei stanco, possiamo fare... cioè, puoi riposarti un po' se vuoi, io ho un po' di posto per farti riposare se vuoi. Ok? Allora se vuoi intanto ti puoi accomodare, stenditi dove vuoi, qua siamo in mezzo alla natura, ma è bello così, no? È un tutt'uno, siamo a contatto. Ok? Ok? Mettiti pure comodo. Allora se vuoi nel frattempo ti posso fare una tisana, vuoi qualcosa da bere? Ok? Allora te la prenderò subito, metto via il pastone. Qua ho la mia borsa. Allora ovviamente non ti faccio una tisana di quelle che si comprano, anche perché io sai che non è che frequento i supermercati, questi posti qua. Io, insomma, vivo con quello che trovo, qua nella mia foresta. Quindi ti faccio una bella tisana, con qualche bacca, cosa ne pensi? Allora questo è il mortaio. Adesso ci andiamo a mettere dentro tutti i nostri ingredientini. Allora, innanzitutto ti prendo questo, guarda. La rosa sta già perdendo parecchi petali, ma ci siamo ancora. Questo? No, perché è un po' troppo esterno. Senti che profumo. E uno. E poi andiamo a mettere anche un po' di questi filini che troviamo all'interno, dove c'è un gran pezzo, una gran parte volevo dire, di principi attivi e sostanze che ti permetteranno di rilassarti al massimo. Visto che tanto ormai mi sembra di aver capito che per oggi non cerchi di continuare a camminare, diciamo. E infatti, un po' di queste pacche. Quattro. Quattro. Intanto respira l'aria di questa foresta. Allora ciò che abbiamo abbiamo una buona base. Andiamo a mettere dentro anche, anzi, non queste, così non andiamo a fare del male. Andiamo ad i ficus. Prendo un paio di foglie già cadute. Prendo un paio di foglie già cadute. Andiamo un po' a pestellare. Prendo un paio di foglie già cadute. Tu intanto rilassati pure. Mettiti nella posizione più comoda che trovi e non pensare a nulla. Vedrai che già dopo questa tisana andrà tutto meglio. Perfetto, adesso ti vado a trasferire un po' del nostro composto, diciamo, all'interno della tazzina e ti verso l'acqua. Questa è la teiera, diciamo, chiusa di solito. Non ti preoccupare. Rilassati. Questo è uno spazio sicuro. Qui non hai bisogno di trasportarti tutte le energie negative, tutti i pensieri che si accumulano nelle giornate. In questa foresta puoi sentirti al sicuro completamente, al riparo. Prenditi questo momento come un momento per staccare completamente da tutto il resto. Perfetto. 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 qua. Adesso ti chiedo di fare tre bei respiri profondi e nel mentre goditi la tua tisana ascolta semplicemente i suoni di queste foglie e prima vado con uno spray a bagnare leggermente le foglie dei miei alberi per dargli energia a una semplice acqua, una spray molto speciale. so 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 Questi sono i miei Ficus Benjamin, hanno 30 anni, li considero come dei figli, vabbè certo, io sembro giovane ma sappi che io ho già 150 anni, ma noi viviamo per molto tempo, beh dipende dai punti di vista, sotto alcuni punti di vista è un vantaggio, sotto altri può essere considerato uno svantaggio, diciamo che non è bello vivere a lungo quando altre persone non possono farlo, è per questo che noi non manteniamo molto i contatti con gli umani, perché se ci affezioniamo poi è brutto, stiamo più che altro tra di noi. Tre bei respiri profondi, scarica tutta la tensione mentre butti fuori l'aria. perfetto, adesso sentivo chiudi gli occhi e ascolta semplicemente questi suoni. a Sì, sì, sì. Sì Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non carezzo i figos benciami. Non voglio farli dal mare. Non voglio farli dal mare. Ti regalo questi fiori che ho colto stamattina. Sono dei cigli rosa. Sono stupendi e profumatissimi. Significano nobiltà e fierezza. Rappresentano anche chi va avanti per la propria strada e quindi te li regalo come buon auspicio. Sperando che tu riesca a trovare la tua strada e che riesca a camminare a testa alta con fierezza, senza aver paura o vergognarti. Non aver paura di mostrarti per quello che sei. Vai avanti per la tua strada testa alta. Le persone che ti vogliono bene ti apprezzano esattamente per come sei. Ed è importante che anche tu ti apprezzano esattamente per come sei. perché vai benissimo così. Tieni. Ecco. Adesso io ti saluto, spero di essere stato di compagnia e ti lascio con un qualche suono di queste foglie dolci. ripassati, 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 ripassati. ripassati, 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 ripassati.